E che ti succede? Stanno morendo. Che vuol dire? Chi è che sta morendo? Avram. Amelia, senti. Che è successo? Ci guidano da qualche parte. E' il dottor McCormick. Amelia, aspetta lì. Dottor McCormick. Salve, mi chiamo Martin Bishop. Un mio amico la stava cercando ieri ed è venuto qui. Mi chiedevo se lei... Scusi, non posso parlare. Guardi, Pettapoto, ci vorrà un secondo. Dottore, ci vorrà un secondo, la prego. Non posso. Dottore. 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 Trevor, chiama un'ambulanza. Aspetta! Mi ha fatto un'ambulanza. Prego. Ecco, prego.